buongiorno e benvenuti a questa nuova recensione oggi modello oek rh6 pms modello vintage scatola di cartone qui troviamo questa foto barra disegno dell'escavatore vero su questo lato troviamo classico logo oek e il produttore nzg prodotto ancora nella germania ovest all'epoca quando uscì quindi prima della caduta del muro dovrebbe essere penso primi anni 80 dovrebbe essere stato prodotto più o meno in quegli anni lì e anche sull'altro lato troviamo la stessa foto di prima scatola di cartone all'interno il modello è avvolto in una specie di gomma piuma per chi ha modelli dell'epoca ha capito più o meno cosa intendo non è una non è la classica protezione che si trova adesso negli ultimi modelli ma è un po più spartana quindi sì il modello non è abbastanza ben protetto ecco e passiamo a vederlo eccolo qua allora l'rh6 pms come si può già notare subito il modello non è per niente dettagliato ma come ho già detto prima il modello è dei penso dei primi anni 80 quindi all'epoca non è che si potesse pretendere elevati standard qualitativi come i giorni nostri partendo dal braccio troviamo la riproduzione del logo poi il modello rh6 pms non sono presenti linee idrauliche su entrambi i bracci passando la torretta abbiamo cabina classici vetri azzurrini della nzg cabina all'interno totalmente vuota non è presente neanche il posto guida sulla torretta comunque troviamo riproduzione di queste griglie penso radiatori per il raffreddamento del motore misera riproduzione del tubo di scarico qua dietro penso sia il filtro dell'aria più altre varie riproduzioni di non si sa cosa zavorra col classico logo e k centrale anche a questo lato troviamo una riproduzione di una griglia e più qui dovrebbero essere serbatoio del gasolio e serbatoio dell'olio idraulico carro ovviamente con cingoli in plastica sotto carro ecco il braccio entrambi i bracci non sono coperti sul fondo ma sono aperti come modello come avete potuto vedere non è per niente dettagliato è giusto ciò che si vede però per l'epoca comunque era già tanta roba modello questo che si trova ancora abbastanza facilmente su ebay cifre un po variabili a seconda da come è tenuto e se alla scatola io questo l'ho trovato per 50 euro e ritengo di aver fatto un discreto acquisto sia per il prezzo per come è tenuto il modello perché è praticamente nuovo i pistoni sono ancora rigidi non vado a sforzarli perché ormai la plastica sarà anche un po invecchiata e magari vado e magari corro rischio che si vada a strappare sui perni per un amante degli oek sicuramente un modello da avere in collezione insieme anche a tanti altri belli dell'epoca questo era già da un po che lo cercavo ho avuto questa botta di fortuna che ho combinato questo più un altro modello oek che andrò a recensire prossimamente lo vedrete qua sul canale come voto gli darei un 6 e mezzo ovviamente voto rapportato per l'anno di uscita prezzo all'epoca dell'uscita sinceramente non saprei però comunque è già qualcosa però comunque per l'epoca come avevo detto lo ritengo un buon modello per quegli anni ovviamente non paragonabile a quelli dei giorni nostri spero che anche questa recensione vi sia piaciuta se avete domande commentate pure qua sotto qui in alto a destra vi lascio il link al collegamento alla playlist con altre mie recensioni in descrizione trovate anche i miei canali social facebook e instagram iscrivetevi al canale youtube per essere sempre aggiornati sui nuovi video e alla prossima ciao